Buongiorno, è finita la festa, si spazzano le strade, si tolgono le mimose ciancicate di ieri e anche tutte quelle parole che sono state tante usate per la circostanza, un uso encomiastico di bei concetti, di belle intenzioni. E' stato un 8 marzo molto vivace, molto interessante ed è una constatazione da fare ancora una volta, le feste commemorative sono per lo più aggreganti, è difficile litigare in queste occasioni, però quello che conta è il giorno dopo, cioè oggi, è il 9 marzo che conta più che altro. E quindi forse vale la pena di lasciare questo eccesso di ottimismo che ci ha colpito ieri, legittimo intendiamoci perché è stata una situazione collettiva aggregante e significativa a mio parere. Però, insomma, adesso vediamo un po', possiamo continuare a essere ottimisti anche cambiando settore? Vediamo un po' che cosa ci conferma l'attualità. Noi innanzitutto dobbiamo essere un po' diffidenti nei confronti di noi stessi, perché noi siamo molto bravi all'orale, poi al momento dell'applicazione pratica dei concetti che riusciamo a esprimere con grande sentimento e con grande credibilità, ecco al momento dell'applicazione lì un attimo caschiamo o perlomeno ci rimpiccioliamo. Ora, in fondo siamo come tutti gli altri, certe volte meglio addirittura, ma certe volte anche peggio. Quindi vediamo un po' cosa succede in giro e vediamo se questa situazione aggregante di ieri, per cui le pari opportunità alle quali abbiamo riconosciuto persino un di Castero, un ministero intitolato a questo problema, è così fondamentale nel miglioramento della società, ecco, se si riesce a superare questo argomento e vedere di migliorare anche altri settori della nostra vita comunitaria. Che cosa succede intorno a noi anche perché noi ci dobbiamo sempre regolare sui paesi altrettanto e forse anche più avanzati rispetto al nostro? Che succede in Francia, per esempio, che è la nazione più vicina per molti aspetti ai nostri problemi, alla nostra mentalità, alla nostra formazione culturale? In Francia succede quello che dovrebbe succedere anche qui da noi un po' dopo, è sempre andata così nella storia. In Francia sta per cominciare, è già slittato, ma insomma il processo all'ex capo di Stato, il capo di governo, ex sindaco di Parigi, Jacques Chirac. Sono eventualità che anche da noi vengono prospettate, non nel caso di Chirac, ma anche noi abbiamo dei personaggi sui quali la gente vorrebbe sapere di più circa la posizione giudiziaria e quindi probabilmente, anzi sicuramente anche da noi succederà quello che sta succedendo con qualche lentezza anche a Parigi. Stanno processando l'ex Presidente, capo di Stato, capo di governo e ex sindaco di Parigi, Jacques Chirac, ha oltre 70 anni, cioè è vecchio, lì si invecchia, all'estero si invecchia diciamo con più decisione, alcuni lo descrivono oggi come oggi meno lucido del solito, un pochino trastornato, indubbiamente provato da esperienze che non si possono dire del tutto positive. Ed è stato accusato di cose che riguardano gli anni 90, quindi pensate un po' quanto tempo è passato. Quando era sindaco di Parigi cosa ha fatto Chirac? Questo è il primo dei procedimenti giudiziali, poi ne seguiranno altri, ma è il primo che si è già fermato, vi ripeto, per delle imprecisioni giudiziarie. Riguarda il periodo in cui Chirac era sindaco di Parigi, cioè gli anni 90, che cosa ha fatto Chirac di sbagliato e di illegale in quell'epoca? Io l'ho letto più volte perché non ci potevo credere, e dunque Chirac è accusato di aver assunto 28 dipendenti, assunti perché iscritti al suo stesso partito e averli inseriti successivamente nell'amministrazione pubblica. Io lo so che molti che hanno sentito questa cosa hanno detto sì, e allora? Perché tutto qui? Ecco, noi siamo purtroppo abituati a tollerare questo tipo di, non direi scorrettezza globale, ma insomma di questo tipo di imprecisione. Non è che non bisogna assolutamente più frequentare le persone che la pensano come te, ma frequentarle e assumerle perché sei diventato, fai caso, sindaco, capita, tutto questo è illegale e tutto questo verrà giudicato. Il Rischia, Chirac, solo per questo primo reato contestatogli, 10 anni di galera e 150 mila Euro di multa, che non sono due spicci, è una cosa pesantissima, è chiaro che non andrà in galera, anche perché il Comune di Parigi non ha infierito, in quanto, ecco, altro particolare che non sempre nei paesi si verifica, è stato risarcito il Comune di Parigi e dal partito di Chirac e da Chirac stesso, hanno cacciato, come si può dire, hanno risarcito in ragione di 2 milioni e mezzo di Euro. Ecco che cosa succede fuori d'Italia quando si procede in un certo modo che è poi quello che goffamente si promette o si minaccia in questi ultimi tempi. Succederà così anche da noi? Io non lo so, a me sembra che l'atteggiamento per esempio dei francesi nei confronti di questa vicenda si è molto sbollentito, è diventato più cauto, c'è un senso di pena nei confronti di un anziano in difficoltà, anche perché quando l'anziano si dichiara tale fa tenerezza e poi c'è anche il fatto che purtroppo o per fortuna si è sufficientemente lucidi per cui si sa che il potere corrompe, può corrompere e non certo aiuta a comportarsi correttamente. Ora, all'imprecisione e alla disonestà delle assunzioni facili si è aggiunta sempre a proposito del periodo in cui era sindaco, Chirac si è aggiunta anche la gestione degli edifici pubblici che venivano, pensate, a Parigi concessi a canoni scontati o venduti a prezzi assolutamente fuori mercato. Questo anche di questo dovrà rispondere, ma voglio dire, tutto questo che da noi viene spesso ricordato, ma poi subito accantonato, se dovesse succedere anche da noi come la prenderemmo? Perché questo dovrebbe succedere in un paese che vuole comportarsi secondo giustizia. Staremo a vedere, io non vorrei però che questo periodo storico finisse così con le mimose ciancicate raccolte e questo senso di sgomento che colpisce i più sensibili. A domani!